Quest'estate Sicilia o Sardegna, nel traffico, in coda, c'è un modo più comodo e sicuro per viaggiare. Con GNV puoi portare l'auto ma senza dover guidare. La tua bici, le valigie, i gonfiabili e anche tua suocera. Ti puoi rilassare fino a destinazione in ambienti sicuri e sanificati, con più spazio per te e per i tuoi cari. Perché quest'estate abbiamo ridotto i posti a bordo, una sicurezza maggiore per tutti. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. E se prenoti subito su gnv.it, hai il 25% di sconto.